Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora sinceramente non era una partita così provante da poter esprimere dei giudizi positivi in maniera esaltante ma ricordiamo che all'andata noi con questa squadra ci abbiamo lasciato punti quindi non sarà stato anche un test ultra provante però era un test quello oggi contro il Crotone che poteva sicuramente crearci qualche problema ed è meglio sempre i problemi evitarli oggi la Juve li ha evitati e sinceramente oggi devo essere devo essere sincero me la Juve oggi è piaciuta ho sentito critiche per lungo tratti della partita ma credo che siano critiche dovute all'ultima partita soprattutto quella col Porto e alla sconfitta con Napoli perché sinceramente oggi ho visto la Juve sempre padrona del pallino del gioco sempre sul con con il gioco tra le sul gioco padrona del gioco quindi assolutamente Juve che mi sembrava veramente con la partita in mano dall'inizio alla fine anche perché il Crotone come ho detto è poca cosa cioè me dispiace per il mio amico Molina che mio compaesano che abita qui qui vicino però onestamente il Crotone mi dispiace dirlo perché secondo me giocano molto bene molto bene ma la qualità è proprio veramente bassa poi alla fine comunque devo essere sincero credo che la Juve abbia dei giocatori che oggi abbiamo fatto la differenza uno su tutti Ronaldo e l'altro Chiesa e l'altro Chiesa tra l'altro 2 gol che non erano così banali non erano così banali soprattutto secondo e poi si è mangiato 2-3 gol per fare la tripletta quindi un giocatore davvero micidiale micidiale e quindi niente non è che ci sia molto da dire una partita che è anche difficile da commentare insomma io credo che abbia dominato la partita come giusto che sia pur giocando secondo me a piccolo trotto ma è stato molto più che sufficiente e va bene così positivissimo l'ingresso di Fagioli che è entrato molto molto bene molto molto bene e attenzione questo ragazzo qua a quello sempre detto la qualità ce l'ha ce l'ha e come quindi attenzione perché se questo ragazzo cresce di personalità e comincia a non sentire la pressione diventa un giocatore veramente determinante per per la Juve veramente e quindi niente ragazzi considerando anche tutte le essenze che avevamo 3-0 comodo e tutti a casa abbiamo avuto le occasioni per fare il quarto il quinto il sesto ci accontentiamo del 3-0 per questa volta sicuramente la partita di settimana prossima è molto 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 complicata perché giocare col Verona non è come giocare col Crotone giochiamo a Verona col Verona che è un'ottima squadra è forte gioca bene è cattiva al punto giusto ha un ottimo tecnico quindi a Verona sarà tosta e queste sono le partite che io non dovevo sbagliare visto che con questa vittoria rimaniamo in scia che era il nostro obiettivo dei primi io continuo a credere al campionato nonostante molti di voi siano scettici perché a me non me ne frega nulla io ci credo secondo me paradossalmente eravamo messi peggio l'anno scorso più a pezzi l'anno scorso da primi in classifica ma eravamo più pezzi l'anno scorso quest'anno siamo anche messi meglio e siamo una squadra che crescerà sempre di più e che deve solo recuperare gli infortuni che ha perché adesso oggi ha recuperato parzialmente McKennie piano piano stiamo recuperando i pezzi e tra un po' recupereremo anche Bonucci, Quadrado, Chiellini e Cevidi scorrendo soprattutto Arthur che secondo me è il giocatore determinante che ci farà fare il stato di qualità definitivo attenzione anche a Dybala che prima o poi rientra non si sa quando ma prima o poi rientrerà quindi oggi era importante vincere e portare a casa tre punti, punto, la Juve l'ha fatto era quello l'obiettivo, tra l'altro credo anche dominando la partita dunque Juventus batte Crotone 3 a 0, migliore in campo Ronaldo, peggiore in campo la divisa di Buffon che è stata un pugno nell'occhio perché veramente non si possono vedere pantaloncini grigi e verdi sulla maglietta arancione, una roba orrendo ciao ragazzi al prossimo video